io buongiorno buongiorno benvenuti a una nuova puntata delle cronache dal fronte liberista finalmente finalmente non si parla più diciamo del covid ma soprattutto finalmente si parla di un tema che conosciamo esatto finalmente abbiamo competenza ecco finalmente il dibattito pubblico si sposta su temi nazional popolari e io e Carlo Stagnaro subitamente diventiamo non so se subitamente esiste questo poi lo vedremo diventiamo immediatamente protagonisti di cosa si parla oggi Carlo? non si può che parlare della proposta della Superlega ricordiamo per chi ci ascolta e in questi ultimi giorni fosse stato su Marte o su un altro paese che 12 club europei per l'Italia, Inter, Milan e Juventus hanno comunicato che a partire dal prossimo anno o quando sarà possibile partiranno con una Superlega cioè con una Lega che raccoglie le squadre più prestigiose indicate diciamo che loro dichiarano essere più prestigiose ma possiamo essere d'accordo che lo siano nel senso che sono squadre che raccolgono oggi leggevo qualche statistica circa l'80% dei tifosi diciamo in tutto il mondo di squadre di calcio quindi diciamo che ci siamo c'è il Manchester, il Liverpool e appunto le squadre italiane le abbiamo dette adesso vedremo le tedesche cosa faranno perché sembra che non andranno ma comunque la struttura della Superlega quale sarebbe? sarebbe una struttura nella quale ci sarebbero 15 squadre appunto i fondatori che non potrebbero mai uscire da questa Superlega e invece 5 squadre, 5 posti liberi una competizione a 20 squadre con 5 posti liberi per squadre che salgono e scendono da questa Superlega accedendovi attraverso i campionati nazionali c'è stata una levata di scudi una levata di scudi sia ovviamente degli altri cartelli perché diciamolo subito una competizione, una Lega, altro non è da un termine economici che è un cartello un oligopolio collusivo di squadre che si mettono assieme e decidono appunto di gestire un campionato adesso entreremo diciamo nel metodo anche delle questioni tecniche perché caro Carlo diciamo l'economia dello sport il cui primo articolo risale al 1956 addirittura è lo sport uno dei campi nel quale più spesso si vanno a guardare dei casi per capire come funziona l'economia in termini proprio di antitrust in termini di tutta una serie di mercato del lavoro di effetto delle superstar interessantissime per l'appunto e dicevamo quindi la levata di scudi da parte della UEFA l'organizzazione che organizza le competizioni europee della FIFA, quella mondiale che addirittura hanno minacciato sanzioni nei confronti dei club a partire proprio dalla Champions League in cui tre dei fondatori sono in semifinale e sarebbero esclusi e addirittura sanzioni nei confronti dei giocatori che giocherebbero in questa Superlega che sarebbero esclusi dalle nazionali insomma ci si divide fra favorevoli e contrari io ti dico subito una cosa sono particolarmente invidioso di chi ha un'opinione certa di chi è nettamente a favore o nettamente contrario nel senso che mi trovo in una posizione come spesso mi capita e come spesso ci capita di dubbio da un lato diciamo il cuore essendo io anziano io rimpiango ancora la perdita della Coppa delle Coppe diciamo anche la Champions League era una cosa che mi faceva abbastanza impressione le innovazioni nel mondo del calcio mi disturbalo perché sono anziano quindi chiaramente diciamo ho una visione del mondo ormai un po' vecchia le innovazioni danno fastidio dall'altro lato la ragione per una serie di motivi che ci diremo ma adesso ti lascio la parola mi porta a dire che certamente l'iniziativa ha senso ha senso economico certamente e che se non dovesse riuscire o i motivi per cui io sono contrario non sono di principio ma sono appunto legati all'iniziativa e alle possibilità che ha rispetto alle caratteristiche Carlo diciamo un po' che ne pensi io sull'atteggiamento generale sono d'accordo io non ho ancora digerito quella perfida unione del 46 in cui l'Andrea Doria e la San Pierdorenese hanno dato vita a questa a questa a questo non trovo neanche la parola saluto il mio saluto il mio cognato che è Doriano quindi diciamo non vorrei diciamo non mi associo occasionalmente si guarisce ma esatto credo che ci siano tanti aspetti e e e proprio la pluralità di aspetti e la pluralità di implicazioni dovrebbe indurre alla cautela infatti io da questo punto di vista mi sono stupito non tanto per la rapidità con cui le altre squadre e i tifosi in qualche modo hanno preso posizione ma per la velocità e e la durezza delle prese di posizioni eh dei leader politici a partire dal dal presidente del consiglio Draghi ma anche eh Macron e tanti altri Orban la Le Pen la Meloni la Superlega no lo ricordo perché è uno di quei casi in cui più vedi le persone che sono contro più ti viene voglia di metterti a favore ma sai sono tutti contro quindi esatto la Superlega ha unito l'Europa questo mi sembra il il primo punto eh quali sono gli aspetti eh rilevanti eh perlomeno dalla prospettiva che che conosciamo noi che in fondo è quella dell'economia e della concorrenza eh da un lato questo potrebbe essere visto come un movimento pro concorrenziale perché uno dice questa è di fatto una sfida a tutto il sistema eh UEFA Champions all'organizzazione del calcio europeo basato su 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 leghe nazionali e infatti la reazione delle leghe è fondamentalmente una reazione eh protezionistica cioè io introduco delle sanzioni che impediscono al mio concorrente di 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 avere spazio di mercato in quasi qualunque altro ambito queste sanzioni sarebbero naturalmente nel caso in cui fossero introdotte verrebbero molto probabilmente eh annullate dall'intervento delle autorità antitrust ecco Carlo a proposito di questo oggi proprio c'è un'interessantissima due pagine sul foglio lo diciamo proprio sull'argomento credo Davide c'è errato proprio su questa cosa ricordava che nel duemiladiciassette con riferimento credo alla federazione di pattinaggio eh fu l'antitrust dichiarò e quindi la corte europea dichiarò non non eh legittime delle sanzioni nei confronti dei singoli atleti che partecipavano a queste competizioni quindi la minaccia che non si possono fare non andranno in nazionale e così via sembra almeno ai fini di quello che dicevi tu lo sottolineo proprio perché è un argomento importante sembrerebbe priva di fondamenti ecco poi secondo tema eh da un lato come dicevo questa è una è una potenziale naturalmente al momento è una provocazione perché dobbiamo essere onesti è una provocazione di cui si parla da tanti anni ma non stiamo parlando di una mossa come dire il rubicone ancora lontano in vista ma è lontano da un lato dicevo questa può essere vista come una mossa pro concorrenziale dall'altro lato però uno può dire no non è una mossa pro concorrenziale è una mossa anti concorrenziale con cui i club superstar si eh mettono tra di loro per scaricare tutto tutto il malloppo legato agli altri club che partecipano ai campionati nazionali e in fondo questi club hanno una una razza economica nel prendere questo questo atteggiamento poi dobbiamo discutere se questa è una razza economica allineata diciamo così col benessere sociale ma la razza economica loro è che sono loro che creano la maggior parte del valore nei campionati poi chiederò io a te dove sta il valore nei campionati perché questo è un tema su cui hai fatto tanta attività di ricerca ancorché Claudicante che si sa si sa si sa anche su riviste su Predatory Journal cose che diciamo ci vengono rinfacciate e ho firmato la GBD lo voglio dire e e e e e e e diciamo è vero che sono i i grandi club che creano la maggior parte gran parte del valore nelle leghe nazionali è altrettanto vero che i grandi club per creare questo valore hanno bisogno dei club eh un po' più sfigati eh perché un campionato ha senso se raccoglie un certo numero di squadre non si può fare un campionato a tre durerebbe troppo poco e e quindi un po' l'idea di questi club superstar è quella facciamocelo tra di noi in maniera tale che moltiplichiamo eh il il valore ultimo punto che ha a che fare col funzionamento dei campionati nazionali e poi ti ti faccio la mia domanda e ti ti passo la parola è oggettivamente nella maggior parte dei campionati nazionali con forse l'unica esclusione della Premier League dove c'è oggettivamente maggiore contendibilità del titolo noi vediamo una situazione in cui come dire quando inizia il campionato non c'è grandissima incertezza su chi vincerà lo scudetto può essere uno può essere l'altro al massimo può essere il terzo però squadre come quelle per cui tifiamo Carlo e io raramente nella nostra vita ci siamo trovati nella condizione di poter dire dai che quest'anno ce la facciamo e questo è un elemento qualificante del campionato e anche dell'attrattività del campionato perché se non c'è incertezza sul suo esito o al massimo c'è incertezza e questo è un tema che ahimè mi riguarda se scendiamo quest'anno scendiamo l'anno prossimo è ovvio che l'interesse delle persone è limitato ultimissimo punto scusami è il terzo ultimo punto ma ci teremo a metterlo io credo ci sia un serio tema generazionale nel modo in cui affrontiamo questa questione noi vecchi tra virgolette tendiamo a essere estremamente legati alla maglia del nostro territorio le generazioni successive probabilmente molto meno e quindi la domanda che dobbiamo una domanda seria che dobbiamo imporci è se il calcio se il prodotto calcio questa è la domanda che passo a te è un prodotto che viene consumato da persone che sono appassionate della maglia come Carlo io e che quindi sarebbero disposti a sdraiarsi sui binari anche di fronte alla cosa per la maglia oppure se il prodotto calcio è destinato a un consumatore diverso come sono in parte i nostri figli che magari sono tifosi della maglia ma almeno altrettanto sono appassionati del bel calcio e quindi sono tanto interessati a guardare una partita tra Real Madrid e Paris Saint Germain di quanto sono interessati a guardare un derby cosa che invece per la generazione di Carlo e mia e probabilmente per le generazioni superiore è proprio una cosa senza paragoni cioè il derby viene molto prima di qualunque altra cosa dentro e fuori il calcio qualunque altra cosa nella vita appunto in generale e quindi la domanda che gira a calcio a Carlo è chi è secondo te il consumatore del calcio e quindi qual è il mercato di riferimento rispetto al quale valutare questo tipo di proposta allora hai toccato dei punti importanti che nell'economia dello sport sono rilevanti il primo che hai toccato è quello dello sport come joint product c'è un prodotto congiunto come dicevi giustamente tu noi abbiamo le squadre che producono hanno una loro funzione di produzione che è quella degli eventi delle partite e delle vittorie ma questi eventi altro non sono che qualcosa che si fa insieme ecco che quindi il soggetto che compete non è più il singolo team ma diventa proprio la lega la competizione l'insieme delle squadre questo tenere insieme in tutte queste squadre pone quei problemi di incentivi di cui tu parlavi parlavi prima cioè la necessità di rendere sostenibile un sistema che metta dentro il Palermo il Genoa lo Spezia il Frosinone insieme a Juventus Milan e Inter in questi anni in cui i soldi delle tv e quindi proprio l'idea del prodotto congiunto che viene venduto a un pubblico che dovrebbe poter apprezzare la competizione in sé qui vado al secondo punto in realtà ha visto proprio queste tensioni fra le grandi e le piccole non nei termini della redistribuzione la legge Melandri che poi ha introdotto dei criteri di ripartizione i modelli diversi la Spagna che ha le grandi che si gestiscono da solo i diritti e le piccole che li dividono per i fatti loro l'Italia che ha un sistema di ripartizione su indicatori la Premier League che ha saputo fare un sistema di redistribuzione e anche per questo motivo ma soprattutto per motivi legati alla lingua inglese alla globalizzazione alla proprietà degli stadi è arrivata prima a conquistare il mondo e a diventare il campionato più ricco il secondo punto è quello dell'equilibrio competitivo il competitive balance cioè l'idea che chi guarda una competizione sportiva sia interessato all'incertezza ma ne siamo davvero sicuri Carlo io e il professore Di Betta ci abbiamo un po' lavorato e l'idea che ci siamo fatti è che in realtà il vero spettatore sia cioè ci siano si dividano diciamo in segmenti di mercato che sono degli spettatori interessati e dei tifosi però quello che interessa veramente probabilmente a questi club è il primo cioè lo spettatore allora se tu vuoi aumentare l'equilibrio competitivo non c'è dubbio che creare una lega nella quale quindi l'equilibrio competitivo è quella condizione per la quale appunto c'è incertezza nella vittoria finale questo può interessare a chi guarda il campionato non dico da esterno ma in qualche modo come soggetto spettatore invece poi ci sono i tifosi gli innamorati della maglia il 99% di quelli che guardano calcio sono tifosi di una squadra cosa vuole il tifoso che la squadra vinca cioè se tu domani mattina dovessi avere il Genoa che vince tutte le partite e stravince il campionato saresti il uno più felice del mondo non te ne potrebbe fottere di meno dell'incertezza del campionato ecco e dico voglio dire quindi da questo sì e neanche del bel gioco no neanche meno del bel gioco in cui non gliene fotte niente a nessuno allora il tema qui oggi diventa proprio lo spostamento da tifoso a spettatore e questo avviene in realtà grazie alla globalizzazione questa iniziativa della Superlega e non dimentichiamoci la Coppa dei Campioni della Champions League perché arriverò poi al punto secondo me focale di questa vicenda non è altro che un tentativo di fare due cose il primo stabilizzare i ricavi cioè l'idea che ci siano retrocessioni e promozioni che ci sia la possibilità di andare in Champions League o non andare in Champions League in ragione del campionato nazionale significa che queste squadre hanno un flusso di ricavi che è troppo legato al risultato e siccome gli investimenti sono elevati molto elevati proprio per il costo dei giocatori e la necessità di vincere il tema diventa l'insostenibilità di questo modello di business non è un caso che quando si fa il riferimento all'NBA ho sentito diversi soloni dire ah ma l'NBA è un'altra cosa certo l'NBA è un'altra cosa proprio perché non ha retrocessioni e promozioni ma per questa ragione oggi un ragazzo italiano che segue basket vede l'NBA e ha poca idea di che cosa è il campionato italiano di basket proprio perché è diventato un prodotto globale allora lo spettatore è certamente globale il tifoso resta probabilmente locale cioè di fatto se noi facciamo l'esempio se il Genoa dovesse vincere lo squetto tu saresti felice il Palermo è in serie C io la domenica vedo il Palermo la serie A la vedo poco pochissimo preferisco vedere la Premier League perché è uno spettacolo quindi probabilmente la mossa ha senso perché io potrei diventare spettatore di una cosa che è più bella e tifoso della mia squadra del cuore che naviga in cattive acque andiamo al terzo punto esiste già un prodotto di questo tipo cioè di fatto esiste già la Champions League non dimentichiamoci appunto io facevo riferimento alla Coppa delle Coppe chi ci ascolta probabilmente non sa neanche cos'è era la Coppa dei soggetti che vincevano la Coppa Nazionale ed era particolarmente bella perché spesso la Coppa Nazionale la vincevano squadre di merda cioè non erano dico dal riferimento dell'FA Cup in Inghilterra dove potrebbe esserci anche la squadra di terza divisione a squadre improbabili dell'est europeo era una competizione in cui poi le squadre dei paesi più forti si trovavano veramente a competere in un campionato in una Coppa in cui potrà vincere chiunque ecco il tema secondo me è un tema di bargaining con la Champions League cioè oggi la Champions League è certamente il prodotto globale del calcio europeo però ha la caratteristica di non avere quella stabilità dei ricavi e quindi questa fluttuazione che fa sì che le squadre si pongano a rischio pensiamo alla Juventus la Juventus fa una squadra punta tutto su Ronaldo per provare a vincere la Coppa dei Campioni e così via si ritrova in un'annata difficile in cui magari rischia anche di non andare in Coppa dei Campioni e rischia addirittura di perdere troppi soldi ecco allora secondo me il tema resta in qualche modo questo qui cioè l'idea che oggi questo prodotto debba diventare globale guardare all'Africa all'Asia dove certamente questi problemi ci facciamo noi di maglia di cose non esistono io sono stato a vedere Liverpool Tottenham è stata una delle giornate più belle della mia vita i tifosi del Liverpool con cui io sono stato si lamentavano della troppa presenza ai turisti come noi cioè perché si sarebbe persa l'autenticità del calcio e allora in questo dilemma secondo me una buona soluzione secondo me quello che succederà probabilmente è che la Coppa dei Campioni che ha già presentato un nuovo formato quindi la Champions League diventerà sempre di più la Superlega cioè probabilmente il tentativo sarà quello di stabilizzare i posti non dimentichiamo che anche la proposta della Superlega prevede 15 club dentro e 5 club che possono entrare ecco io credo che la risposta potrebbe essere questa in modo da evitare e lasciare anche un incentivo a che dentro i campionati nazionali si possa continuare ad avere la voglia e il dovere di vincere cioè se anche i fondatori avranno la possibilità di uscire da questa Lega dei superforti magari in ragione di risultati su 10 anni 7 anni 8 anni e così via probabilmente avranno interesse a continuare a vincere i campionati nazionali per mantenere il loro status perché non dimentichiamo che se oggi loro sono i club più importanti è perché nei campionati nazionali hanno dato la loro supremazia in un altro lavoro fatto con Paolo Di Betta dimostriamo che il Verone e l'Eister sono favole bellissime di cui tutti ci riempiamo la bocca ma sono cose che non esistono cioè la vittoria dei campionati in particolare in Italia è fatta da come dicevi tu due, tre, quattro squadre che vincono sempre le stesse non è vero che c'è una grandissima competizione quindi io credo da questo punto di vista che il tema che ha portato la proposta della Superlega sia fondamentale cioè l'innovazione la sostenibilità e l'idea che oggi il cliente del calcio non sia più soltanto il tifoso ma anche chi può guardare a quello spettacolo come un intrattenimento non è più nemmeno come la NBA con tutto chiaramente le differenze ripeto la NBA non ha la promozione retrocessione ha tutto un sistema c'è il Sala di K anche lì sul Sala di K ho sentito persone dire che la panacea è tutti i mali non è così di fatto redistribuisce in qualche modo diciamo la ricchezza all'interno diciamo a favore diciamo dei proprietari più che dei giocatori quindi anche lì c'è sempre qualcuno che perde non sono tutti vincenti così come i problemi di ripartizione di TTV e secondo me da questo punto di vista è benvenuta questa proposta e credo ripeto io con la testa mi sento forse di dire sì col cuore da anziano mi sento di dire no però certamente è bene che se ne parli perché ne va soprattutto in tempi di pandemia l'uscita è particolarmente importante perché il prossimo anno molte squadre non saranno in condizione di fare i campionati qui stiamo parlando già di tre miliardi e mezzo raccolti da Morgan Stanley e introiti per le squadre che parteciperebbero che neanche vedono quelli che vedono annualmente dai diritti TV quindi il tema certamente c'è e quasi tutti il corso azionario di quasi tutte queste squadre che sono colate in borsa è schizzato in alto un motivo ci sarà Carlo non sono cose diciamo che accadono per caso sì e su questo io farei un ultimo punto e ripeto sia Carlo che io siamo persone legate alla maglia del proprio team però ecco eviterei la retorica ridicola del calcio dei ricchi versus il calcio dei buoni sentimenti nato in parrocchia perché come dire non la nostra serie A e le altre leghe nazionali non sono il calcio dei poveri che fanno il bel gioco pur non potendoselo permettere ecco sono organizzazioni che hanno enormi interessi i quali hanno come dire una loro razionalità eccetera hanno un loro pubblico evidentemente e si confrontano con delle ipotesi alternative quindi in principio io eviterei questo tipo di retorica cercherei di chiedermi qual è il tipo di organizzazione che può garantire miglior gioco migliori prospettive e in fondo miglior flusso di ricavi il flusso di ricavi vuol dire che tu crei un prodotto che viene apprezzato dagli altri poi magari chi apprezza quel prodotto possono essere persone diverse non saremo più Carlo e io saranno altre persone però alla fine questo deve contare ecco Carlo scusi che l'ho dimenticato ma tu giustamente parlando di questo me l'hai fatto ricordare ecco il punto su cui io credo che potrebbero avere sbagliati i calcoli diciamo i calcoli nel senso e poi qui io ripeto non sono contro sono a favore la valuto come un'operazione di innovazione ecco il tema della retorica nella domanda di calcio non è da sottovalutare cioè io credo che da questo punto di vista quella romantica idea del calcio faccia parte del calcio come una caratteristica della domanda strutturata ecco in questo senso io i dubbi che esprimo rispetto a questa iniziativa è l'idea che in qualche modo possono averla sottovalutata e questo secondo me perché al di là del fatto che io sono d'accordo con te esiste certamente cioè è un tema il tema della cultura calcistica e la maglia e così via esiste ecco questo secondo me potrebbe essere il punto debole di questa vicenda non dimentichiamo che già iniziative simili tipo la confederations cup da parte della fifa cioè ci sono in qualche modo tentate e sono fallite perché poi le persone alla fine vogliono vedere appunto magari il campionato nazionale o la Champions League è già il massimo a cui si può arrivare ecco la scommessa che hanno fatto probabilmente la vinceranno loro come tu sai chi sa fare fa chi non sa fare insegna quindi diciamo quelli che ci hanno pensato probabilmente ne capiscono più di me e quindi indovineranno la mossa ecco perché io continuo a pensare che perché la verità che poi qui bisogna andare a vedere le caratteristiche quali sono è impensabile è chiaro che il concorrente è la Champions League che giocava il mercoledì la Superlega e quando si gioca poi la Champions se il mercoledì giochi la Superlega mentre il campionato nazionale poi continua a giocare ecco che è lì secondo me il punto dove loro riusciranno a trovare un compromesso nei termini che abbiamo detto maggiore stabilità dei ricavi maggiore certezza di partecipazione a un torneo sopranazionale a cui di fatto poi ci siamo già abituati e quindi smusserebbero probabilmente questi elementi che noi che noi stiamo dicendo ma che ripeto nel calcio sono fondamentali cioè la retorica è tutto nel calcio e non è un elemento da poco anche dei ragazzini che certamente però come dici tu hanno una visione giustamente del mondo diverso mi pare che abbiamo tutto quello che c'è da dire e possiamo passare diciamo al momento rilevante della giornata ovvero la parola della Sedeoni cosa avrebbe detto la Sedeoni oggi oggi era importante Batracomio Batracomio Machia era fondamentale ma l'abbiamo già detto non la possiamo dire non mi ricordo a chi tocca per primo forse a me vai faccio la super leg e allora io vorrei dire questa la parola della Sedeoni oggi è reprobbo reprobbo quindi non considerate queste squadre che hanno proposto questa innovazione come i reprobbi del calcio sappiate che per la passione che abbiamo per la palla che rotola c'è spazio per tutti secondo me invece la Sedeoni avrebbe guardato noi due nelle palle degli occhi eppur diciamo nel disinteresse totale per la discussione in corso ci avrebbe detto cari Carlo e Carlo avete fatto bene a evitare di prendere una posizione netta perché in casi come questo è facilissimo pigliare un gran ciporro ecco cosa la parola più bella era certamente gran ciporro e ringraziamo ringraziamo chi ci ha ascoltato e ringraziamo e sereno come sempre ringraziamo i club i dodici club che ci hanno finalmente distratto nella migliore tradizione del pane met circenses dalla finalmente noi siamo felici di questo ma soprattutto ci hanno reso protagonisti di cose che capiamo nel senso di calcio perché di calcio ne capiamo questo lo vogliamo dire e ci sentiamo di dirlo reso protagonisti vuol dire guardandolo dal divano come sempre anche per evitare infarto e allora un saluto a tutti e grazie alla prossima ciao